Il Bancomat dell'Ufficio Postale eroga in ritardo 600 euro, ma un utente li restituisce ai carabinieri che transitavano casualmente da Piazza della Rinascita. Accade allo sportello dell'Ufficio Postale di Caltagirone, con protagonisti di questo fatto di cronica letto fine per fortuna sono un'anziana settantenne, una signora di mezza età e i carabinieri del nucleo radiomobile della locale Compagnia. L'anziana si era recata al Banco Post per prelevare 600 euro, ma forse per un problema legato alla connessione, lo sportello le restituisce solamente la carta. A quel punto l'anziana, convinta che l'ATM fosse fuori servizio, ritira la carta e torna a casa. Lo sportello qualche attimo dopo riprende il collegamento ed eroga il contante. Il tutto avviene nel momento in cui un altro utente stava per accostarsi allo sportello e compiere la sua operazione. Quest'ultimo, nel trovarsi il denaro della signora tra le mani, intuisce che tale somma apparteneva quindi all'anziana che l'aveva preceduta e tenta in vano di rintracciarla. Casualmente transitano i carabinieri di lì e la signora, che definiamo di mezza età, indica loro di fermarsi e dopo aver raccontato l'accaduto consegna il denaro ai militari, i quali quest'ultimi che avrebbero potuto consegnare 600 euro ai responsabili delle poste mediante la videosorveglianza hanno accertato l'identità della sfortunata recandosi nella sua abitazione per restituirgli il contante. L'anziana vive con il conige e entrambi si prendono cura di una figlia affetta da disabilità. Il denaro del prelievo fallito continuerà a servire per una giusta causa e per i bisogni primari di questa famiglia.